I movimenti delle placche che formano la crosta terrestre determinano uno stato di tensione tra le rocce poste ai loro margini. I terremoti sono improvvise vibrazioni del terreno che si verificano quando la tensione tra le rocce, accumulata sotto forma di energia elastica, supera infine il limite di rottura in prossimità della superficie terrestre. La frantumazione e lo slittamento delle rocce liberano grandi quantità di energia in forma di vibrazioni, le onde sismiche, che causano le scosse del terremoto. Il punto di origine delle vibrazioni, detto ipocentro, può trovarsi anche a 700 chilometri di profondità. L'epicentro è il punto sulla superficie terrestre che sovrasta perpendicolarmente l'ipocentro. A parità di energia liberata, minore è la distanza da ipocentro ed epicentro, ma è maggiori sono gli effetti del sisma. L'intensità dei terremoti viene espressa nella scala Mercalli in gradi da 0 a 12. Più alto è il valore della scala, maggiori sono le distruzioni provocate dal sisma. La scala Richter misura invece l'intensità dell'energia liberata.